Ciao, sono Ada, consulente digitale di Digital CDL. In questo video, ti parlerò degli arretrati dell'assegno unico. Dal 1 marzo 2023, l'assegno unico e universale è riconosciuto d'ufficio a coloro che abbiano presentato domanda, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente. Chi non ne ha mai beneficiato, invece, al fine del riconoscimento del beneficio per l'annualità che decorre dal 1 marzo 2024, dovrà presentare una nuova domanda di assegno unico e universale. In sintesi, il 30 giugno 2024 è il termine ultimo per la presentazione della domanda che, se accolta, consentirà ai richiedenti il riconoscimento degli arretrati a partire dal mese di marzo 2024. Se ti è piaciuto il video e lo hai trovato interessante, clicca mi piace, iscriviti al canale per sostenerlo e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle uscite dei prossimi video.